le squadre che fanno adesso il loro ingresso in campo grazie a tutti Chelsea come ha detto che ha bisogno dei tre punti per sperare di superare il Krasnodar e di giocarsi la finale contro la Roma che è già certa di giocarla dopo le tre vittorie un pareggio nelle prime quattro giocate e poi avrà proprio la sfida contro il Krasnodar primo pallone per il Malaga si comincia con Merino che lancia in profondità tentativo da parte di Mugnoz ora Merino largo per l'Osada in verticale il pallone che non riesce a tenere in campo Fernandez Guerrero e allora rimessa laterale per Tabu Kuhako cerca Russell Demme che non aggancia e allora il portiere Sanchez Flores al rilancio ancora Fernandez Guerrero poi centralmente va Molina Cugnoz che cambia gioco poi Merino chiedo scusa ancora per l'Osada Jimenez Merino con il passaggio centrale per Hamdi ancora Dani Hamdi per Molina poi Mugnoz bella la progressione centrale il tentativo col sinistro da parte di Alvaro Sanchez però non trova lo specchio della porta anzi è nel numero 8 Dani Hamdi e allora Ted Curd al rinvio l'Osada Merino 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 Ayub Dani Hamdi l'errore ne approfitta Golding che poi serve Russell Demme non riesce ad andare via all'Osada allora ancora Dani Hamdi dietro per Sanchez il colpo di testa ma era fuori gioco di Fernandez e allora punizione per il Chelsea numero 2 Harrison Murray Campbell per arretrare il punto di battuta ecco Murray Campbell pallone centrale interessante per Kurt Riley poi Michael Golding controlla cerca la conclusione un po' scoordinato pallone che esce sul fondo Munoz controlla bene subito pressato da Brookmeier centralmente un pallone non facile per Molina che riesce ad andare in profondità dove però recupera palla Ted Kurt e ricomincia da Murray Campbell poi Pope ancora Jakob Pope verso Riley Kurt che serve Myers ma era in posizione irregolare Brookmeier al di là della linea difensiva del Malaga la idea è più clara dove sta il portero vabbiamo a jugare un pochito no vabbiamo a pensare un pochito e poi vediamo ancora Pop poi Murray Campbell Ted Kurt ancora Molina poi in qualche modo in modo falloso Murray Campbell su Dani Amdi Munoz va in profondità Munoz tentativo ancora di Contreras Munoz 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 al rinvio cercare Carmayley che prova a far proseguire verso Russell Danny McAllon arriva tra le braccia di Sanchez Michael Golding Buono il controllo di Myers dentro per Riley Kurt la parata a terra di Sanchez Flores Ancora Dani Amdi con l'ottimo movimento di Fernandez ancora Fernandez prova ad andare lui Fernandez area di rigore palla dentro il tentativo di Munoz poi il pallone rimane lì alla fine c'è un fallo di mano proprio del numero 3 Munoz Navas vicino al gol il Malaga Popp in qualche modo poi Contreras cambia gioco molto bene sull'Osada ancora l'Osada deve evitare il ritorno di Ayala che ha segnato il gol del pareggio contro il Dort un poco fa Munoz Munoz area di rigore palla arretrata e poi il tocco è troppo morbido la ripartenza del Chelsea a di Kurt area di rigore si ferma cerca l'imbucata sta bene il Malaga in chiusura con Molina poi Golding Golding Michael Golding Chelsea avanti 1 a 0 all'ottavo minuto con Michael Golding bellissimo il gol del numero 6 servito da Myers super in area di rigore Molina e fa 1 a 0 all'ottavo adesso il tentativo ancora da parte del 1 a 10 con 3 Russell largo per Munoz questo lo 0 a 0 è andato vicinissimo al vantaggio punta Pop Munoz prova a mettere al centro in due tempi Ted Kerr che ricomincia proprio dall'autore del vantaggio Golding si appoggia a sinistra intanto entra in campo con il numero 9 Alvaro Sanchez eccolo qui altissimo eppure è un 2007 di gennaio 27 gennaio 2007 uno dei pochi 2007 intanto Molina sbaglia il tocco contro Erasper Munoz ne approfitta poco che fa andare Myers sfida in velocità l'avversario Myers poi il tocco è corto per Riley Kurt la mette al centro buona idea del numero 10 di Chelsea ma il pallone arriva docile tra le braccia di Rafael Sanchez Flores ancora Molina dietro con Tre Eras dietro anche lui per Merino ancora Molina pallone per Sanchez cerca Fernandez che però non si libera bene di Cuauhò Riley Kurt controlla male allora può uscire Sanchez Flores cambio per il Chelsea entra Atuampa entra anche Joshua Pescatore ed entrerà tra poco anche Sonto Boniface Mary Campbell allarga per Tabo Cuauhò Riley Kurt prova a far prolungare proprio per Joshua Pescatore poi il controllo di Munoz punto tecnico numero 3 Daniel Munoz Navas centralmente Molina più veloce di Pescatore va in profondità forse è in fuorigioco Sanchez alla fine recupera comunque Cuauhò poi con Riley Golding da dentro per Ampah Ancora Ampah che controlla benissimo con un fallo però ecco qui il fallo vito da Sanchez finisce il primo tempo con il Chelsea avanti 1 a 0 il gol all'ottavo di Michael Golding Golding l'autore del gol del vantaggio del Chelsea il tocco è per Pop che cerca avanti il movimento di Riley Kurt poi Joshua Pescatore ancora Riley Kurt vuole andare da solo e c'è un tocco da parte di Merino Rodriguez calcio di punizione in favore del Chelsea dal limite dell'area di rigore Merino chiede spiegazioni all'arbitro vediamo qui Riley Kurt si lancia Merino in realtà toglie la gamba Kurt va giù un po' sullo slancio poteva anche non esserci il calcio di rigore sarà Riley Kurt a calciare la punizione numero 10 del Chelsea va Kurt e c'è la parata molto bella da parte di Villa Garcia che ancora va in alto a prendersi questo pallone e poi far ripartire i suoi con Mugno che cerca un lancio in profondità abbastanza interessante per Fernandez che però non può arrivarci due minuti in questo secondo tempo il rilancio di Ted Kurt verso Kurt che va giù nel contatto con Merino non c'è nulla dice l'arbitro Losada si complica un po' l'esistenza e infatti regala la rimessa laterale al Chelsea Golding prova a prolungare Munoz di testa per Sanchez ancora Alvaro Sanchez tiene lui palla poi la perde nel contrasto vinto da Golding poi Ato Ampa apre molto bene per Joshua Pescatore palla retrata per Riley Kurt che trova la deviazione di Losada provvidenziale evitare il 2-0 del Chelsea Ancora Ato Ampa per Michael Golding Ampa gioco di gambe di Ampa a superare Sanchez Guzman tentativo di break da parte del Malaga attenzione pallone per Contreras contro Pop ancora Contreras centralmente Murray Campbell ad allontanare Ato Ampa per Joshua Pescatore che vuol far passare chiude molto bene il Malaga ancora Jakob Pop per Ato Ampa che passa su Sanchez Guzman poi Munoz trova un buon pallone per Alvaro Sanchez con tre Ras Talcio d'angolo con Munoz che andrà dalla bandierina Golding allontana poi dalla distanza prova a calciare Sanchez Riley Kurt anticipato molto bene da Gonzales Fernandez poi dietro per Villa Garcia il lancio cercare Sanchez Munoz Contreras prova a passare nello stretto trova una deviazione sarà rimessa laterale mentre è pronto ad entrare in campo anche Joshua Ayala esce Riley Kurt ora Alvaro Sanchez si appoggia all'altro Sanchez Samuel Sanchez Guzman poi Gonzales Losada prova ad andare da solo Losada non passa e allora Atomampo attenzione al contropiede velocissimo da parte del Chelsea Atomampo però non la passa avrebbe potuto servire Pescatore che gli va a dire qualcosa Michael Flay Flay come Flay Michael Flay Flay put it down Flay Pup Atomampo verso Golding si lotta per il possesso alla fine esce benissimo Daniel Gonzales Fernandez il pallone in profondità dove prova ad andare a prenderselo Alvaro Sanchez troppo lungo allora Pop per la rimessa Joshua Pescatore con un bel numero Samuel Sanchez Guzman centralmente Gonzales Fernandez Prova ad andare in qualche modo Munoz Pop lo ferma con un fallo Pescatore con un fallo Loro Lazio andi E allora dal calcio di punizione c'è Izan Merino Rodriguez che andrà a calciare. Va Merino, gran botta, falla fuori. Prova a ripartire il Malaga, velocissimo sulla destra. Muñoz, Muñoz si libera, può calciare, Muñoz viene fermato ancora ottimamente da Murray Campbell. Grazie a tutti. L'Osada attaccato da Brookmeyers. L'Osada si appoggia centralmente dove va veloce González, poi sbaglia però Pop. Si appoggia Russell Danny che va in profondità da Ato Ampa che viene fermato a sua volta da Daniel González Fernández in calcio d'angolo. E' proprio Rice Alexander Russell Danny che va dalla bandierina. Pallone dentro verso Ato Ampo. Recupera palla a Muñoz. Prova ad andare lui con a Muñoz. In velocità sfida Pop che lo ferma con una trattenuta. Il fallo è per il Malaga. Daniel González Fernández. Pallone dentro l'area di rigore ad allontanare. Ci pensa Somtobonifas. Ancora dalla bandierina Fernández. Ancora un colpo di testa in area di rigore ad allontanare. Poi il tentativo è di Sanchez Guzman. Ecco Ato Ampo che prova a partire in contropiede. velocissimo Ato Ampo la trattenuta netta di Muñoz. Tutto fermo dice l'arbitro. Un po' di polemiche da parte dello staff del Malaga. Sanchez è un pallone per Contreras. Gran movimento in profondità. Tutto facile per Ted Curd. 30 secondi al termine. Prova ad andare ancora il Chelsea. si allunga il pallone Brookmeyer. E allora Contreras ha un'altra chance. Verso Muñoz Pop riesce a deviare in rimessa laterale. Ancora Munoz. Ancora Munoz. Atras. Atras. Ha fermato Munoz. La rimessa è sua. Tentativo di Contreras. Il gol dell'uno a uno. Bellissimo. Il gol di Contreras. Che fa esultare anche il Krasnodar. Che può così giocarsi la finale. Ma il Chelsea non ci sta. Anche se ormai il tempo è scaduto. Contreras segna proprio allo scadere al tredicesimo. Bellissimo. Il gol del numero 10. Non ci arriva Ted Curd. Ancora Contreras. Pop. Finisce qui pareggio del Chelsea. E adesso Roma Krasnodar con il Krasnodar. Che potrà approfittare di questo pareggio. Questo stop del Chelsea. Per giocarsi la finale anticipata contro la Roma.